buongiorno è una bella mattinata così era freddo presto era freddo freddissimo i cespuglietti qua nel giardinito dei miei vicini americani c'è la casa col buco sul tetto che dovrei tenere d'occhio io non ci vedo da lontano mi sa ci vedo poco comunque c'è una casa con tetto col buco c'è un ragazzo che ci abita una giornata così ci sono boschie ma l'umbria si vede ciao umbria ciao amiche amici dell'umbria allora sono nello studio lasciato entrare aria luce aria finché c'era il sole di fronte ho protetto le lane colorate finché ho potuto e vi faccio vedere una cosa beh guardate ritrovamenti ritrovamenti mi se ne è rovinato forse uno no 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 allora questi bei bottoncini in madre perla li ho acquistati quasi dieci anni fa quasi poco meno poco meno di dieci anni fa c'era già la minù ma era piccina perché non è che adesso sia un gigante adesso qualcuno ve lo lascio al rovescio allora questi bei bottoncini con queste belle fogge le stelline i cuoricini fiorellini li ho pagati veramente pochi centesimi e li ho acquistai li acquistai al mercato di piazza palermo che poi si sviluppa anche per vie traverse e una di queste la via dove abitava abita la mia amica francesca bellati è una pitrice di genova andate a cercarla adesso non ce l'ho distante volevo farvi vedere il suo libro il suo libro che è stato pubblicato è una persona incredibile ho tante incredibilie in genova nel mondo allora questo sacchettino era un sacchettino li portai a casa mi ricordo non so neanche se feci in tempo a farvi vedere come l'ho poi andò smarrito il sacchetto quindi quanti traslochi 3 3 traslochi e adesso andando a ravanare in un cestino mi sono deciso basta questo deciso questo cestino qua è da svuotare e ha trovato questo sacchettino che non so perché non ho notato ma io spesso guardo non vedo ma volendo cercare e volendo trovare no con distrazione così sciatta no è che proprio non lo so ovviamente che non vuole registrare quanto si trova davanti agli occhi e niente e non l'ho perduto perduto fu e invece adesso ho trovato l'ho preparo un un barattolino preparo un barattolino carino di vetro a piocci metto della bambagia perché i bottoncini di madre perla si rompono con grande facilità e visto che la mia bimba si sta divertendo ad uncinettare cosine per le gemelline di casa ecco li destino a lei sì per le bimbine tanto più lei che riesce a fare cose a queste bambine che me e quindi che bello con questo bel ritrovamento sono contenta se capitate il lunedì e il giovedì adesso io non ricordo se è questa di giovedì o di lunedì perché ci sono dei banchi che non non allestiscono in entrambi i giorni di mercato e questo si trova proprio proprio lo trovate lo trovate non ve lo dico scovate se andate a genova andate a cercare il banco dei bottoni che di merceria non ce ne sono molti di banchi spero che abbiano che ci siano ancora che sì perché sono quei banchi belli io trovo un sacco di cose belle a quel mercato a genova parte dei tessuti scampoloni ma scampoli in andia quindi ci vengono cose belle tipo vestiti cappotti signori scampoli ci ho comprato quelle belle maglie austriache quelle originali con quelle belle lane secche belle fate bene una proprio carina la fregata camilla l'ultima che era grigia col bollino rossi nero con una bella zip di quelle belle fate bene buone delle buone zip un macchinone arranca lasciamolo passare sì ci sono dei c'erano e beh ovviamente siamo mascherati in macchina va bene niente mi rientro e vado a prepararmi un tè ci sentiamo più tardi e non si smossa e non si smorza e non si ferma